Oggi parliamo di Vectoring, una tecnologia particolarmente interessante per quello che è il mondo delle connessioni in rame e in particolare di tutte quelle connessioni FTTC, soprattutto con protocollo VDSL2. La VDSL2 è infatti una tecnologia di accesso che rappresenta un'evoluzione della più nota ADSL e che permette su infrastrutture di rete FTTC di raggiungere velocità teoriche di 300 Mbps in download. E lo fa anche grazie all'utilizzo di uno spettro di frequenza molto più ampio rispetto alle più classiche ADSL e infatti, proprio in base alla larghezza di questa banda, vengono definiti diversi profili in cui i più utilizzati sono il 17A e il 35B che, rispettivamente, utilizzano uno spettro di banda di 17 e 35 MHz. E l'erogazione di una linea VDSL2 avviene tramite un apparato attivo denominato DSLAM che viene posizionato sopra ai cabinet team, all'interno di quel soprarialzo, spesso col cappuccetto rosso, che vediamo in giro per le nostre strade. Purtroppo, però, nonostante questo standard permetta, come detto, di raggiungere velocità davvero impressionanti, rimaniamo pur sempre su un'infrastruttura in rame e quindi questo fa sì che, anche nel caso di VDSL2, ci siano principalmente due criticità importanti. L'attenuazione del segnale e la diafonia. L'attenuazione del segnale all'aumentare della distanza è effettivamente una cosa inevitabile in un cavo in rame, ma nel caso di VDSL2 questo effetto è pure aumentato dal fatto che utilizziamo una banda più grande, nella quale quindi prendiamo anche più rumore. Ed ecco che quindi questo porta al fatto che le linee VDSL2 devono per forza di cose essere erogate ad abitazioni molto vicine a quelle che è il cabinet. E si parla infatti di una distanza media di 300 metri tra cabinet e abitazione. La diafonia invece riguarda l'interferenza reciproca che si viene a creare tra diverse coppie di fili in rame vicine. Coppie di fili in rame che per semplicità di comprensione da ora in avanti chiameremo semplicemente linee in rame. E in sostanza questa interferenza consiste nel fatto che su una particolare linea vengono ricevute e diventano quindi un disturbo le comunicazioni che avvengono sulle linee vicine. E pensate che questo può portare anche un peggioramento delle prestazioni pari al 50%. Ed ecco che una soluzione a questo problema è proprio il protagonista di questo video, ossia il Vectoring. Il termine Vectoring si riferisce ai calcoli di elaborazione digitale del segnale che vengono eseguiti per stimare quella che è la diafonia e creare di conseguenza un segnale antirumore che la annulli. Ora andremo a vedere più nel dettaglio come funziona ma per far subito un esempio calzante che ci permetta di capire fin da subito qual è il principio che sta alla base del Vectoring ecco che la logica di funzionamento di base è assolutamente assimilabile a quella che è utilizzata per la cancellazione del rumore nelle cuffie dove la misurazione da parte della cuffia del rumore esterno permette di creare un segnale che poi lo elimini e ci permetta quindi di sentire esclusivamente il segnale utile, ossia la nostra musica. Ma come detto andiamo a vedere più nel dettaglio come funziona il Vectoring che si compone principalmente di tre step. Il primo riguarda la misurazione del rumore presente su ciascuna linea. Ora per calcolare la diafonia tra le linee viene utilizzato e sfruttato quello che è il simbolo di sincronizzazione un simbolo che viene inviato ogni 256 simboli di dati circa 16 al secondo dove per simbolo si intende semplicemente un insieme di bit. Ora ogni simbolo di sincronizzazione viene modulato potremmo dire moltiplicato per intenderci e far passare più semplicemente il messaggio per un bit di una sequenza pilota che viene definita sulla base del numero di linee che vengono gestite da quel particolare di SLAM. Per esempio se stiamo considerando un sistema con 192 linee ecco che la sequenza pilota sarà lunga 256 bit ossia la potenza di 2 più vicina al numero di linee presenti nel sistema. Ora per ogni linea viene associata un'unica sequenza pilota che solitamente vengono scelte ortogonali tra loro e badate bene a questa caratteristica perché nel secondo step che vedremo tra poco capiremo l'importanza del fatto che queste sequenze siano ortogonali. Fatto questo quindi ecco che questo simbolo di sincronizzazione viene inviato dal di SLAM, dal cabinet per semplificare fino al nostro modem DSL ed ecco che proprio quest'ultimo si aspetterebbe nel caso in cui non ci sia nessun rumore all'interno della linea nessun disturbo di ricevere il simbolo di sincronizzazione modulato col bit della sequenza pilota. Tuttavia però questo chiaramente non accade e il simbolo che viene ricevuto è in realtà il simbolo di sincronizzazione modulato con il bit della sequenza pilota distorto dalla diafonia dei simboli di sincronizzazione modulate delle linee vicine. Ed ecco che quindi il modem calcolando l'errore che c'è tra ciò che si aspettava e ciò che in realtà ha ricevuto facendo anche qui per semplicità una sorta di differenza ecco che emerge quello che è effettivamente il rumore totale che è stato sperimentato su quella linea. E questo rumore viene quindi rispedito al di SLAM per l'analisi che viene eseguita nel secondo step. Ora l'obiettivo dell'analisi del di SLAM è quella di ricavare quella che è la diafonia associata a ciascuna linea perché chiaramente il valore che noi riceviamo dal modem è la diafonia totale quindi io so che su quella linea c'è una diafonia 50 ma non so su quella diafonia quanto ha contribuito la linea 1, la linea 2, la linea 45. Ed ecco che qui entra in gioco il tema delle sequenze pilota ortogonali infatti il di SLAM correla il risultato ottenuto il rumore ottenuto con le sequenze pilota di ciascuna linea ottenendo quello che è il valore di diafonia tra la linea 1 e la linea 2, la linea 3, la linea 4, la linea 5 e così via. E questa operazione risulta semplificata proprio dal fatto che le sequenze sono ortogonali perché nel momento in cui moltiplichiamo bit a bit due sequenze ortogonali ecco che la media restituisce sempre 0 e questo quindi significa che nel momento in cui io andrò a moltiplicare il rumore totale per una sequenza pilota di una particolare linea tutto ciò che non è associato a quella particolare linea risulterà essere 0 e otterrò alla fine dell'operazione semplicemente il rumore la diafonia associata a quella particolare linea. Fatto questo quindi il gioco è fatto perché in questo momento il di SLAM conosce qual è il valore di diafonia che ogni particolare linea subisce da ogni particolare linea vicina e nell'ultimo e terzo step non resterà quindi che creare quello che viene chiamato il segnale antirumore che verrà utilizzato per modulare questa volta i bit di dati per far sì che nel momento in cui attraversano la linea in rame moltiplicandosi con quello che è il rumore generato dalle altre linee che è noto si annullino. In questo caso per capirci potete immaginare quello che succede nella moltiplicazione se io ho un fattore A e lo moltipico per 1 su A ecco che quel fattore viene eliminato e ciò che fa questo segnale antirumore è a grandi linee proprio questo. E con questo ultimo step si conclude quindi il processo di vectoring che come abbiamo visto permette di eliminare quello che è uno dei problemi più importanti soprattutto in tratte così corte come quelle BDSL2 delle reti in rame e in particolare delle reti FTTC. Purtroppo però l'implementazione di questa tecnologia non è così banale e soprattutto si scontra con due temi particolarmente rilevanti. Il primo riguarda le caratteristiche del modem perché come abbiamo visto negli step precedenti il modem ha un ruolo attivo all'interno di questa tecnologia perché deve essere in grado di calcolare quello che è l'errore e in sostanza la diafonia per rinviarlo al DSLAM. Ed ecco che quindi proprio il modem dovrà supportare la tecnologia vectoring ma questo potrebbe essere ancora non sufficiente visto che io potrei sì avere un modem che supporta il vectoring ma se le linee in rame vicino alla mia linea non hanno dei modem che supportano il vectoring anche se il cabinet, il DSLAM supporta il vectoring ecco che io avrò comunque il disturbo delle altre linee. Questo perché siccome le altre linee non hanno un modem che supporta il vectoring non rendono possibile al DSLAM conoscere quella che è la diafonia sulla propria linea e un ragionamento simile può essere fatto su quelle che sono le linee in rame controllate dai diversi operatori e sì perché nel momento in cui un operatore installa il proprio DSLAM all'interno del proprio cabinet controlla la diafonia su quelle che sono le linee sotto il suo controllo per l'appunto e quindi questo significa che nel caso in cui le linee vicine alle linee controllate da questo particolare operatore siano invece di altri operatori e non ci sia una sincronizzazione o uno scambio di informazione tra quelli che sono i DSLAM degli operatori ecco che la diafonia sarebbe allo stesso modo presente visto che il DSLAM dell'operatore considerato non potrebbe tenere conto della diafonia generata dalle linee controllate dall'altro operatore ed è proprio per questo motivo che almeno dal nostro punto di vista quindi dal punto di vista degli utenti si rende di gran lunga preferibile la soluzione di adottare il cosiddetto Vectoring Coordinato indicato dalla sigla MOV Multi Operator Vectoring in questo caso infatti ecco che i DSLAM di diversi operatori presenti all'interno di una particolare area vengono messi in comunicazione per permettere quindi di scambiarsi tra loro quello che è il valore di diafonia di ciascuna delle linee o controllate dai diversi operatori e questo fa sì ovviamente che dal punto di vista dell'utente indipendentemente dall'operatore che sto utilizzando possa avere un'ottima cancellazione della diafonia e di conseguenza ottime prestazioni sulla mia linea e questo è chiaramente ciò che avviene a livello assolutamente teorico visto che poi arrivando a parlare di quella che è la situazione del Vectoring nel nostro paese in Italia ecco che l'adozione imposta da Agicom agli operatori di questa ultima soluzione quindi il Vectoring Coordinato nel lontano 2013 ha creato non ben pochi problemi se infatti questa scelta da una parte è stata fatta da Agicom per poter garantire agli utenti finali delle ottime prestazioni e quindi un'ottima cancellazione della diafonia dall'altra l'obbligo di dover coordinare gli operatori tra loro ha in realtà portato ad una complicazione eccessiva di quella che è l'implementazione del Vectoring portando così praticamente tutti gli operatori a non implementarlo proprio e purtroppo la situazione è rimasta questa fino a poco più di un anno fa quando una nuova delibera Agicom del 2019 ha dato il via libera a quello che è il Vectoring senza l'obbligo di MOV quindi di Vectoring Coordinato con gli altri operatori ed ecco che quindi dopo un periodo di sperimentazione da maggio 2020 si è cominciato a vedere l'implementazione del Vectoring da parte di team soprattutto nei cabinet delle aree bianche e notizia freschissima degli ultimi giorni ottobre 2020 la tecnologia Vectoring risulta in attivazione anche per le linee 35B quelle che come abbiamo detto utilizzano 35 MHz di spettro ed è chiaro che per quanto ci siamo detti il fatto che un operatore introduca solo lui il Vectoring non sia una soluzione ottimale nel caso in cui siano presenti linee di altri operatori nelle vicinanze ma è pur sempre meglio che non applicare proprio da nessuna parte il Vectoring questo quindi tutto quello che c'era da sapere sulla tecnologia Vectoring una tecnologia che sicuramente può permettere a quelle che sono le infrastrutture FTTC di portare una connettività con prestazioni sicuramente importanti soprattutto come avevamo visto a quelle utenze molto vicine ai cabinet anche se poi al netto di questo discorso questa tecnologia può essere sicuramente un'ottima soluzione ponte tra quella che è la necessità di avere velocità importanti sulle nostre linee fin da subito e l'obiettivo di arrivare a una copertura praticamente nazionale in fibra ottica delle nostre abitazioni